Musica Buonasera e bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. Il Ministero dello Sviluppo Economico conferma lo switch off in Abruzzo dal 7 al 15 maggio. La sospensione del passaggio al digitale terrestre decisa ieri dalla Tar Lazio vale dunque solo per la regione Molise e per la provincia di Foggia. Restano però i problemi a causa della comunicazione tardiva delle nuove frequenze alle emittenti locali. Il nostro servizio. Ciao, sono Nando e il telecomando. Attenti al buio, dal 7 al 17 maggio il vecchio segnale tv si spegne per sempre. Il Ministero dello Sviluppo Economico con determina direttoriale del 4 maggio ha confermato l'irregolare svolgimento del passaggio al digitale terrestre nella regione Abruzzo dal 7 al 15 maggio. Lo rende noto lo stesso Ministero con un comunicato stampa in cui spiega sostanzialmente che sì, il provvedimento cautelare monocratico del Tar Lazio del 3 maggio sospende il decreto ministeriale con cui si fissano le date dello switch off nell'area tecnica 11, ovvero in Abruzzo, Molise e provincia di Foggia, ma che l'emittente ricorrente, Canale 21 di Napoli, non è titolare di impianti di trasmissione in Abruzzo, mentre lo è in Molise e provincia di Foggia. Per il Ministero, pertanto, non sussiste alcun interesse di Canale 21 alla sospensione delle attività di transizione in Abruzzo. Esaminati gli elementi di fatto e di diritto, il Ministero si legge ancora nel comunicato, ha comunque disposto il regolare svolgimento del passaggio al digitale nella regione Abruzzo secondo il calendario prefissato. Insomma, come dire, le difficoltà espresse dall'emittente napoletana sono reali e oggettive per tutte le emittenti, perché non si possono tarare le apparecchiature su nuove frequenze comunicate dallo stesso Ministero appena tre giorni prima dello switch off. Occorrono invece tre mesi per fare al meglio questo lavoro, nell'interesse sia di chi svolge il servizio televisivo, sia dei telespettatori che lo ricevono a casa. Ma nel nostro paese siamo abituati a questo e ad altro. Ci scusiamo fin da ora con i nostri telespettatori se subiranno disagi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sappiate che non dipende dalla nostra volontà. Lunedì 7 maggio scatta lo switch off. Si parte con la postazione di Aria Peligna, bussi sul Mona. Martedì sarà la volta delle postazioni in Maiella e a San Silvestro. Via via le altre postazioni. Resta ancora da superare lo scoglio San Silvestro, in attesa del tavolo tecnico convocato dalla Regione Abruzzo per il 15 maggio. Come è noto, la postazione è ormai fuori dal Piano Nazionale delle Frequenze, che ci preferirebbe piuttosto su una piattaforma in mezzo al mare, ad oggi totalmente inadeguata ad ospitarci. Se dal 7 maggio non ci vedrete nelle aree della costa, ringraziate la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, che hanno sostenuto questo progetto irrealizzabile sull'onda della demagogia più spicciola. Omicidio di Domenico Rigante, domani i funerali alle ore 16 con il passaggio della Salma allo stadio Adriatico. Il papà di Domenico Pasquale Rigante ha detto non vogliamo vendette ma la giustizia faccia il suo corso. Familiari, amici, tifosi. In tanti si sono recati all'obitorio dell'ospedale di Pescara, aperto da mezzogiorno per consentire l'ultimo saluto alla Salma di Domenico Rigante, il 24enne morto la sera del 1 maggio nel corso di una sparatoria e per il cui omicidio ha ricercato Massimo Ciarelli, 29 anni, appartenente alla comunità rom locale. Bianca azzura alla bara, con incisi il simbolo del Delfino del Pescara Calcio e del Pescara Rangers Club a cui era scritto Rigante, davanti la quale diverse centinaia di tifosi del Pescara e qualche giocatore hanno reso omaggio. Secondo l'autopsia, Domenico Rigante sarebbe morto a seguito di emoraggia interna. Un proiettile calibro 38 ha attraversato in più parti l'intestino tenue, determinando una lesione del diaframma e della orta. Il proiettile si è poi fermato sotto pelle all'altezza del braccio. Mio figlio era un buono, ha detto il papà Pasquale. Era andato a Bergamo al funerale del giocatore del Livorno, Pier Mario Morosini, e aveva partecipato a Roma anche al funerale del papà di Danilo Soddimo, giocatore del Pescara. Non vogliamo vendette né altra violenza, ha aggiunto. La giustizia deve fare però il suo corso. C'è rabbia e dolore perché perdere un figlio di 24 anni che aveva una bambina di pochi mesi non si riesce a spiegare. Antonio, l'altro mio figlio, ha detto infine Pasquale Rigante, sta male al pensiero che poteva trovarsi lui al posto del fratello gemello. I funerali di Domenico si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Villa Gialcione. Prima di arrivare in chiesa, la salma transiterà davanti alla curva nord dello stadio adriatico. Il giovane è vestito con una maglia bianca azzurra su cui sono state messe decine di sciarpe e con i colori sociali del Pescara. Sull'omicidio Rigante interviene anche l'associazione regionale Romanicci Liclò che accusa le istituzioni di scarsa attenzione al problema di integrazione. Una lettera nella quale abbiamo espresso il nostro timore che potesse verificarsi qualche grave fatto. Non è che ce lo siamo sognati di notte. Sicuramente i fatti che accadevano e man mano andavano ad evolversi ci portavano a pensare tutto ciò. Sicuramente c'è una latitanza molto forte da parte del Comune di Pescara che non ha mai, mai, mai attivato nulla di concreto per l'integrazione della minoranza Roma. L'integrazione è un processo politico, è la politica che deve mettere a disposizione delle risorse, delle energie, delle competenze per andarle a realizzare. Non a caso la comunità europea ha messo a disposizione dello Stato italiano, quindi anche degli enti locali, le risorse adatte per fare tutto ciò. Se poi i comuni, gli enti locali utilizzano queste risorse non per fare integrazione ma per fare ben altre cose allora è chiaro che sono loro i responsabili di quello che accade oggi. Se lei fosse consulente oggi dell'amministrazione che cosa considerebbe in questo momento di emergenza e poi superata l'emergenza? Guarda, un dialogo diretto con la comunità Roma, con la parte avanzata della comunità Roma. Noi per esempio il 20 gennaio abbiamo fatto un grosso convegno, lì proprio alla zona dove vivono i Rom, qui a Pescara, a Rancitella, la chiesa della Madonna del Fuoco. Non a caso in quel convegno abbiamo chiamato il procuratore capo della Repubblica di Pescara a relazionare. Il nostro era un segnalo chiaro di legalità, di accettazione delle regole. Peccato che in quell'occasione e i media e la politica erano assenti. Malgrado ciò abbiamo continuato nei mesi successivi, nelle settimane successive a stimolare un dialogo, ma un dialogo è inesistente. Sembra che siamo degli appestati, nessuno vuole dialogare con noi, eppure sono consapevoli che noi abbiamo le capacità, gli strumenti, tutte le varie possibilità per fare insieme questo percorso che non è utile solo alla comunità Roma, ma è utile a tutta la collettività. Nell'intervista abbiamo ascoltato il presidente dell'associazione Romani Ciliclo, Nazareno Guarnieri. Voltiamo pagina a caso Straccia, non è ancora arrivata in procura a Pescara la perizia sul cadavere di Roberto Straccia. Lo studente marchigiano scomparso il 14 dicembre scorso e ritrovato annegato a Bari il 7 gennaio. Ma secondo quanto è stato riferito verbalmente a Palazzo Giustizia, l'autopsia avrebbe escluso ogni ipotesi di omicidio. Straccia quindi sarebbe morto per annegamento lo stesso giorno della scomparsa e non ci sono segni di violenza sul corpo. Sarà anche molto difficile, riferiscono gli inquirenti, stabilire se Straccia sia finito in acqua volontariamente o per incidente. In assenza di ipotesi di reato, la procura pescarese procederà all'archiviazione del fascicolo. Potrebbe rientrare in fabbrica giovedì prossimo la FIOM CGL con un documento ufficiale. La SEVEL ha annunciato che provvederà dal corso a quanto disposto dal provvedimento del giudice di Lanciano, con riserva però di opposizione. Potrebbe rientrare in fabbrica giovedì prossimo la FIOM CGL con un documento ufficiale. SEVEL ha annunciato che provvederà dal corso a quanto disposto dal provvedimento del giudice di Lanciano, ma con riserva di opposizione perché ritiene ingiusto e gravatorio il provvedimento che ordina il reintegro delle 17 RSA FIOM nello stabilimento del Ducato. La notizia è giunta dopo la conferenza stampa della FIOM CGL regionale a Lanciano, nel corso della quale Nicola Di Matteo ha commentato la sentenza del giudice Flavia Grilli. La sentenza per noi è una grande boccata d'ossigeno e anche di speranza perché ci permetterà di rientrare in fabbrica a testa alta e di lavorare in mezzo alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno una situazione drammatica, soprattutto come condizione di vita e nello stesso tempo ci permetterà insieme alla FIOM nazionale, alla CGL, a chi veramente, alle istituzioni, alla politica di tentare di fare una battaglia in Parlamento per cercare di modificare delle norme che sono veramente antiquate e che non possono esistere. Di Matteo critica duramente anche le affermazioni rilasciate dal segretario nazionale CISL Raffaele Bonanni in occasione delle ultime elezioni RSA. A Bonanni noi diciamo semplicemente questo, che oggi loro riconoscono che hanno fatto degli accordi che cancellano dei diritti fondamentali del sindacalismo che abbiamo conosciuto fino adesso e delle lavoratrici e dei lavoratori. Ecco, noi ci proporremo sicuramente non di andare a firmare quelle cose, ma di rimetterle in discussione e se loro realmente vogliono farlo insieme a noi, noi siamo pronti a farlo da oggi in avanti. Questione rifiuti a Lanciano, il CDA dell'Ecolan S.p.a. respinge al mittente le richieste di dimissioni avanzate dal comune di Lanciano in merito a presunti ritardi nell'iter di recupero delle volumetrie della discarica di Cerratina. Il presidente del CDA Tartaglia aggiunge, si pensi piuttosto ad aumentare la raccolta differenziata in città che ferma al 30%. Respinge le accuse al mittente il presidente del Consiglio d'Amministrazione Ecolan, Gian Panfilo Tartaglia. All'amministrazione comunale di Lanciano che ne chiede le dimissioni, Tartaglia risponde che tecnici e personale Ecolan hanno lavorato ininterrottamente, lottando contro il tempo e contro la burocrazia farraginosa degli enti regione, provincia di Chieti e Arta, due anni e mezzo per recuperare 200.000 metri cubi della discarica consortile di Cerratina. In conferenza stampa il presidente e il direttore tecnico Sandro Fantini hanno snocciolato date e cifre per smentire le accuse di inefficienza e ritardi nella programmazione del Consorzio Smaltimento di Fiuti di Lanciano. I documenti, dicono alla Ecolan, sono disponibili per tutti coloro i quali parlano senza averli letti per evitare di fare affermazioni lontane dalla realtà. L'unica mossa ragionevole per il prossimo futuro, dicono inoltre alla Ecolan, dovrà essere quella di organizzare ed implementare un servizio di raccolta differenziata per raggiungere il 65% nel 2012 come da normativa vigente. Da quando siamo alla guida dell'ex Consorzio di Fiuti, ha sottolineato Tartaglia, abbiamo messo in atto tutto quanto il nostro potere per salvaguardare la discarica. Abbiamo bloccato il conferimento di rifiuti extra consortili e attivato le procedure per il recupero delle volumetrie. Il primo atto che abbiamo fatto è quello di bloccare il conferimento agli extra consortili e questo lo abbiamo a concretizzare con un accordo di programma con la Regione e fin dal 1 aprile 2011 gli extra consortili non vengono più a conferire da noi. Questo non perché non vogliamo essere più solidali con i comuni della Regione, ma semplicemente perché abbiamo ritenuto che la volumetria residua dovesse essere riservata esclusivamente ai nostri 53 comuni. E questo per cercare di evitare loro, specialmente in questo periodo in cui ci sono degli aggravi di tasse e quant'altro, un ulteriore aggravio per lo smaltimento dei rifiuti. Questo è l'obiettivo che ci eravamo proposti e questo è stato il risultato che ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo di avere il riconoscimento per 200.000 metri cubi che la Regione ci ha concesso. Questi 200.000 metri cubi, come noi abbiamo più volte specificato, ripeto, fino al 2010, devono essere riservati esclusivamente ai nostri comuni. La pagina del calcio iniziamo con la Serie B. Il bomber immobile salterà la trasferta del Pescara a Grosseto a scopo precauzionale. Al suo posto dovrebbe giocare Maniero. Ciro immobile salterà la trasferta di Grosseto ed è ufficiale. L'attaccante sente ancora fastidio alla coscia. E' Zeman ha deciso così di preservare il bomber in vista del rush finale che vedrà il big match col Torino come partita della verità. Lunedì immobile si sottoporrà a nuovo esame clinico. Maniero centrale offensivo è dunque l'ipotesi più probabile per la sua sostituzione. Lorenzo Insigni ha saltato la rifinitura per qualche fastidio fisico ma non dovrebbero esserci problemi circa il suo impiego in terra toscana. Ricordiamo che immobile ieri si era sottoposto ad ecografia con un responso che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. L'esame infatti ha rilevato un affaticamento muscolare ecograficamente negativo. Il tecnico Boemo ha comunque deciso di non rischiarlo per poter contare su di lui nella parte finale della stagione e soprattutto nel confronto con la capolista Torino in programma all'Adriatico sabato prossimo alle ore 18. A proposito, i tagliandi per il big match sono quasi tutti esauriti col record di incasso e presenza stagionale. In Lega Pro pienamente recuperato il centrocampista della Virtus Lanciano Paghera prenota il suo rientro a centrocampo. Nella partita con il Salò sono stati già venduti oltre 1200 biglietti. E dopo tre turni di assenza scalpita Fabrizio Paghera che è tornato perfettamente abile e arrolato. Oggi è venerdì, domani pomeriggio la rifinitura. Tutto pronto e prenoti un posto lì in mezzo? Ma diciamo che sono iniziato a allenarmi questa settimana abbiamo fatto un buon lavoro con lo staff medico sono riusciti a recuperarmi abbastanza in fretta sui tempi che ci avevano dato e diciamo che adesso sono disponibile adesso decide il mister se portarmi, mandarmi in panchina, farmi giocare o non portarmi, vediamo. Però io adesso sto bene e sono pronto a dare una mano ai miei compagni. Cosa sarebbe meglio che ormai preservarti pienamente per i playoff o affrontare il Feralpi? No, che preservarsi. Se uno sta bene è giusto che giochi. Domenica è una partita importantissima per noi perché indipendentemente dal risultato del Siracusa vincendo li prepareremo i playoff con un atteggiamento diverso e per me è molto importante la partita di domenica. Tu hai potuto vedere da spettatore Siracusa-Virtus Lanciano. Che squadra è quella siciliana? Una squadra esperta secondo me che per battere dovremmo sbagliare pochissimo soprattutto in casa. Se giocheremo andate in casa soprattutto dovremmo sbagliare pochissimo e dopo là dovremmo giocare con una grande personalità tutte e due le partite. Se giochiamo con personalità riusciamo a passare il turno. Quanto ci credi a questa Serie B? Tantissimo ci crediamo anche perché abbiamo tutte le qualità per farlo e tutte le qualità sia tecniche che morali secondo me. Bisogna stare concentrati, concentrati. Se siamo concentrati facciamo paura. Hai visto tu che hai tentennato che Lanciano era la scelta giusta? Sono... ma io non ho tentennato all'inizio. È che lasciavo comunque la squadra nella mia città. Io sono contentissimo di essere arrivato e di aver incontrato questi compagni spettacolari e questo staff. Quindi adesso c'è solo da coronare questa cavalcata. Per il carcio non perdete questa sera l'appuntamento in diretta dalle 20.30 con Amuso Duro e in studio come sempre Sergio Mancini e Gianfranco Semproni. In chiusura la notizia sul digitale terrestre. Dal 7 al 15 maggio l'Abruzzo passa al digitale terrestre. Ci sarà dunque lo switch off che durerà una settimana di zona in zona. Aggiornate il vostro decoder e troverete Telemax a partire da lunedì 7 maggio sul canale 12. Ci saranno disagi inevitabili per tutti, per noi emittenti che dovremmo fare una corsa contro il tempo e per voi che vi affannerete a cercarci col decoder e sul telecomando. Comunque ricordate Telemax dal lunedì 7 maggio sarà sul canale 12 del digitale terrestre. E' tutto per questa edizione del Tg Max. Vi ricordo infine che il nostro Tg, i nostri servizi e le trasmissioni sono visibili sul nostro sito internet tgmax.it. Arrivederci.